Passiamo ora agli osteoclasti. Allora, questo è un disegno ovviamente, questa invece è una cellula reale. Comunque possiamo notare sia dal disegno sia dalla cellula reale che l'osteoclasto è una cellula multinucleata, quindi ha più nuclei, infatti è una cellula molto grande, grandissima, e ha una morfologia ben precisa. Andiamola prima a vedere qua e poi i concetti li andiamo a traslare da questa parte. Innanzitutto possiamo vedere che ci sono dei granuli. Questi granuli vengono definiti granuli scuri e contengono le metalloproteasi, le catepsine e le proteasi, che poi capiremo che cosa sono. Poi possiamo vedere che ci sono altre vescicole, queste, che sembrano vescicole, vengono chiamate vescicole chiare ma non sono vescicole, sono invece le estroflessioni più terminali delle specializzazioni basali di membrana, che sono queste qua, che sono delle introflessioni che contengono le proteasi. Questo viene definito l'orletto increspato e si vede anche qua. Questo qua è l'orletto increspato. Sopra l'orletto increspato, qua ovviamente non si vede bene, ma con la microscopia elettronica si vede benissimo, la presenza invece dei granuli scuri. Poi abbiamo una parte, la parte diciamo che si slarga maggiormente, che invece viene detta zona chiara. Questa zona chiara, praticamente qua si vede ancora meglio, va proprio a sigillare la parte dove è presente invece l'orletto increspato. Quindi qua lo sigilla, questo è l'orletto increspato, e qua lo sigilla. E come mai lo sigilla? Perché in questa parte dell'orletto increspato, che è questa qua, mentre questa qua è la zona chiara, abbiamo detto che c'è una grandissima concentrazione di proteasi. Proteasi che ora, facendo un quadro generale, capiamo a cosa servono. Partiamo prima però dai granuli scuri che avevano dentro le metalloproteasi della matrice e le catepsine. Queste due proteine sono molto importanti perché proprio vanno a smantellare la componente organica dopo che quella minerale è stata tolta. Infatti le metalloproteasi sono anche dette collagenasi e quindi servono ovviamente a distruggere tutte quelle componenti organiche che vengono esposte quando la parte minerale, che invece le scherma, non c'è più. Ma invece la componente minerale, chi la toglie? Beh, ovviamente la toglie l'ambiente, diciamo le pompe a protoni, le proteasi che ci sono qua, che pompano attivamente protoni, protoni che poi vanno a dissolvere in ambiente acido ovviamente la matrice minerale. E quindi la zona chiara, non l'orletto increspato che produce le proteasi, ma la zona chiara che le sigilla ha un'importanza perché se fossero solamente questi protoni buttati in un ambiente aperto, ovviamente tramite osmosi uscirebbero e quindi l'azione sarebbe lenta e non efficace. Se invece vado a chiudere completamente l'ambiente che voglio andare a modificare, e quindi per farlo mi serve ovviamente una cellula grandissima, a quel punto allora l'azione dei protoni è molto efficace. Quindi prima vado a levare la componente minerale e poi faccio esocitosi di granuli scuri contenente le metalloproteasi e le catepsine, quindi levo poi anche la parte organica e così vado a digerire l'osso. Ovviamente tutta questa azione di rimaneggiamento osseo è un'azione che non viene a caso, ma viene controllata proprio dagli stimoli ormonali. Infatti abbiamo per esempio il paratormone che avevamo citato precedentemente, il paratormone è prodotto dalle paratiroidi e ha un effetto. Aumenta la calcemia, quindi cosa succede? Succede che il paratormone stimola gli osteoblasti. Gli osteoblasti cosa fanno? Producono della sostanza organica, che è la sostanza osteoide, la mineralizzano tramite i meccanismi precedenti, quindi tramite i famosi granuli calcificanti che gemmano in vescicole di Bonucci contenenti quelle che erano la fosfatasi alcalina, il calcio e la pirofosfatasi, quindi questa è la prima azione che viene svolta. Ma oltre a questo, gli osteoblasti rilasciano gli OAF. Gli OAF sono i fattori factors, la lettera finale, activating osteoblastic, quindi sono i fattori di attivazione osteoblastica. E uno di questi si chiama ranchele, quindi un OAF si chiama ranchele, e quindi il ranchele viene prodotto da questi osteoblasti tramite questo stimolo ormonale e il ranchele si va a legare al recettore delle ranchele che però si trova sugli osteoblasti e quindi si va a smantellare l'osso. C'è però un piccolo problema. Quando io vado a ossificare un tessuto epitelioide, che quindi era il tessuto che proprio ossifica l'osteoblasto, rimane una piccola parte di tessuto epitelioide esterno che non calcifica. E rimane molto spesso una piccolissima striscia di tessuto epitelioide che poi andrebbe a contornare l'osso. Ora, c'è un problema perché l'osteoblasto non può prendere attacco con una matrice, con una sostanza intercellulare, deve prenderlo con qualcosa di più solido, come per esempio l'osso. E quindi proprio lo stesso osteoblasto produce delle procollagenasi e il TPA, che è l'attivatore tessutale del plasminogeno in plasmina, che ovviamente levano la componente organica e quindi levano anche il sottile strato di tessuto osteoide che non si mineralizza. A questo punto, quindi, arriva l'osteoblasto, nella zona chiara si attacca all'osso e poi fa tutto quello che abbiamo detto. Quindi tramite la parte dell'orletto increspato va a levare la parte mineralizzata, poi arrivano le vocicole scure contenente metalloprotease e catepsine che levano anche la componente organica. Ed ecco che c'è la regolazione del rimodellamento osseo. Allora, quando abbiamo parlato della cartilagine, abbiamo detto che l'embrione, diciamo il feto, quando nasce, comunque durante la fase dello sviluppo embrionale, il suo tessuto osseo è inesistente, quindi c'è solamente la cartilagine fetale. La cartilagine fetale poi viene sostituita dal tessuto osseo fibroso. Questo osso fibroso rappresenta proprio la forma iniziale del tessuto osseo che si forma sia durante lo sviluppo intraterino che poi post-natale e quindi costituisce proprio il primo scheletro. Ovviamente si chiama fibroso perché ha una morfologia molto simile al tessuto cartilagine fibroso e quindi ha queste grandissime fibre di collageno 1. Ovviamente però ci sono dei, non ci sono dei condrociti o condroblasti, ma ci sono gli osteociti e gli osteoblasti che si dispongono in maniera casuale lungo queste grandissime fibre di collageno 1. Questo osso fibroso diciamo che lo possiamo riscontrare nell'adulto solamente in poche regioni anatomiche, quali, ad esempio, tendini e legamenti, ma anche nel cemento delle radici dentarie, dove le fibre collagene contribuiscono a quello che è l'ancoraggio dell'osso. Durante poi il rimodellamento osseo, il tessuto osso fibroso viene demolito e si forma poi il tessuto osseo secondario, detto anche tessuto osseo lamellare. Il tessuto osseo lamellare rappresenta la forma più differenziata invece del tessuto osseo, che è proprio adatto a svolgere le funzioni importanti dello scheletro e si va a dividere in due tipologie, le lamelle semplici e le lamelle ostioniche. Le lamelle semplici sono sottili, sono costruite sempre da microfibrille di collageno 1 che si dispongono nello spazio e assumono varie direzioni. Diciamo che però la loro, proprio morfologicamente, sono molto sottili, quindi le ritroviamo loro esclusivamente in pochissime regioni anatomiche, come per esempio a livello della lamina papiracea dell'osso etmoide. Ecco lì lo spessore dell'osso è veramente sottile, è letteralmente un foglio di carta, arriva a circa 3 micrometri e quindi ecco che lì troviamo solamente un tessuto osseo lamellare con lamelle semplici. La cosa da dire è che le lamelle semplici non sono vascularizzate, proprio come non era vascularizzata la cartilagine. Nella maggior parte invece dei tessuti c'è una, diciamo, si convive fra lamelle semplici e lamelle osteoniche. Le lamelle osteoniche sono queste, sono proprio gli osteoni, quindi hanno ovviamente uno spessore maggiore, infatti un solo osteone raggiunge i 7 micrometri. E com'è, diciamo, com'è strutturato? Abbiamo delle lamelle che risultano anche più mineralizzate, si dispongono concentricamente, però c'è un particolare. Oltre al fatto che sono vascularizzati dai canali di Avers che sono centrali, che poi sono rivestiti dalla membrana contenente le cellule osteoprogenitrici viste precedentemente, che era proprio l'endostio, quindi qua c'è l'endostio con le cellule osteoprogenitrici, ma se io ora vado a osservare con microscopia elettronica queste lamelle, osservo che sono birifrangenti. Ecco una sezione di tessuto di lamella osteonica. Vedo che sono birifrangenti. Perché sono birifrangenti? Perché c'è uno strato? Ci sono, diciamo, l'alternarsi di due strati che sono molto diversi fra di loro. Possiamo proprio vedere che c'è una lamella più sottile e una lamella più spessa. Quindi la lamella più spessa raggiunge anche proprio i 7 micrometri di spessore e partiamo dicendo questo. La lamella più sottile è costituita, diciamo la parte meno mineralizzata, infatti è proprio costituita da microfibrille di collageno 1. Nella lamina spessa, invece, ci sono sempre le microfibrille di collageno 1 che sono, per esempio, notabili. Ora qua no, perché è stato macerato, però... Diciamo che il feltro che creano è molto più lasso e quindi dentro ci vanno proprio i famosi cristalli di apatite che poi mineralizza, abbiamo visto. Quindi qua è proprio un ricchissimo di collageno 1 che poi non va a fibrillare, ma comunque rimane collageno 1 e si vedono anche i filamenti. Mentre qua il collageno 1 è molto più lasso, entrano dentro i cristalli di apatite e mineralizzano. E quindi abbiamo questa struttura alternata. Quindi abbiamo visto che le lamelle semplici inizialmente erano quelle, erano diciamo uno strato di tessuto osseo normale che era presente in pochissime parti e nella maggior parte dei casi sono sia le lamelle semplici sia le lamelle ostioniche e le lamelle ostioniche a sua volta sono formate da lamelle sottili e lamelle spesse. E abbiamo visto queste lamelle sottili e spesse. Questo ci fa capire, diciamo, che c'è una laminazione, una lamellazione. Quindi com'è che ci sono questi due strati alternati? Cosa succede? Allora, quando l'osteoblasto è giovane e attivo produce una certa quantità di microfibrille collagene e quindi forma così la lamina sottile. Poi nel corso del ciclo vitale dell'osteoblasto cosa succede? Che si conclude la sua trasformazione in osteocita infatti a quel punto la produzione di microfibrille diminuisce per questo che poi si fanno più l'asse e lì si vanno a insinuare poi quelli che sono i cristalli di apatite e a questo punto si spiega la lamellazione. Questa lamellazione è importantissima perché avere due tipologie di lamelle che poi possono cambiare anche in percentuale ha un vantaggio grandissimo perché va proprio a modulare le caratteristiche elastiche e magari anche a varie caratteristiche di taglio, di torsione, di resistenza. In base a quante ne metto ecco che ho caratteristiche osse diverse. Infatti se avessi un osso completamente formato da lamelle semplici invece avrei praticamente un cartilagineo e quindi sarebbe molto plastico ma incapace di reggere il peso corporeo se invece avessi un tessuto osseo formato solamente dallo spesso invece avrei un osso che è resistente ma fragile perché alla minima plasticità a cui si sottoponeva l'osso ecco che si spezzava. Ecco qua una immagine del tessuto osso lamellare semplice abbiamo detto precedentemente che non è vascularizzato è molto sottile si trova a livello della lamina papiracea e vabbè possiamo vedere anche ci sono a livello dei turbinanti comunque non è vascularizzato e quindi da dove prende i nutrienti per far sopravvivere le sue cellule che poi vabbè sono gli ostociti, gli osteoblasti e gli osteoclasti li prende ovviamente dal periostio che invece è molto vascularizzato ed è presente a livello della superficie dell'osso mentre l'osteone che abbiamo già detto che ha il canale di Avers con l'endostio quindi con le cellule osteoprogenitrici ha una, diciamo, errorazione sanguigna e non solo i canali di Avers che sono verticali sono uniti poi da dei canali chiamati di Volkman che invece sono trasversali per esempio questo, 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 questo ovviamente poi a livello dei vari ostioni dato che sono circolari non è che non ci può essere niente e quindi ci sono quelle che vengono definite brecce osse che sono semplicemente delle parti rimanenti di ostioni precedenti perché anche gli ostioni ovviamente subiscono il rimodellamento osseo quindi sono delle parti che erano precedenti agli ostioni che poi una volta che viene rifatto il rimaneggiamento osseo per apposizione di materiale quindi di ostioni rimangono intrappolate le parti di ostioni non digerite ed ecco che si forma quella che è definita breccia ossea qua abbiamo invece il canale di Volkman qui è stato letteralmente fatto una sezione e casualmente è stato proprio tagliato in corrispondenza del canale di Volkman che è proprio questo e quindi in sezione si vede il canale di Volkman e due canali di Avers comunque le fasi del rimaneggiamento osseo sono delle fasi che sono comuni sempre e comunque infatti abbiamo già detto che prima di tutto abbiamo l'attivazione osteoblastica quindi paratormone gli osteoblasti prendono lo stimolo del paratormone appongono il tessuto osteoide ma rilasciano anche gli OAF che sono gli attivatori degli osteoclasti di cui il ranchelle l'ossoclasto è un recettore per il ranchelle e cosa fa? si ha quindi l'attivazione osteoclastica quindi gli osteoclasti vanno a erodere la sostanza intercellulare dell'osso e poi vanno proprio ad ampliare il canale di Avers e altano proprio la sua direzione quindi si forma proprio una cavità una cavità di riassorbimento perché abbiamo visto che con la zona chiara si chiude tutto la zona chiara dell'osteoclasto si forma una cavità definita cavità di OSCIP dove poi arriva nuovamente l'osteoblasto e ci fa rideposizione ossea queste sono le fasi del rimaneggiamento osseo diciamo che comunque ci sono tre modalità in cui l'osso si può formare che sono la diretta o membranosa sono la stessa la mantellare e la indiretta o condrale che sono la stessa ora c'è un modello osteogenico quindi affinché io voglio andare a formare dell'osso devo avere un modello che è comune a tutti in cui ho inizialmente l'angiogenesi quindi ovviamente per far arrivare le cellule mesenchimali che garantiscono il trofismo devo far arrivare il vaso quindi prima di tutto l'angiogenesi poi la differenziazione delle cellule mesenchimali infatti una volta le cellule mesenchimali affluiscono nell'aria grazie all'angiogenesi si differenziano in cellule osteoprogenitrici perché anche le cellule osteoprogenitrici non vengono da niente sono cellule del connettivo che derivano dalle cellule mesenchimali poi queste cellule pre-osteoblastiche diventano osteoblasti fanno tutto quanto fanno il tessuto epitiloide e poi c'è la terza fase che è la mineralizzazione del tessuto osteoide grazie a tutto quello che abbiamo detto paratormone ranchelle fino a quando poi ho la formazione il quarto step del tessuto osseo secondario che poi appunto il tessuto osteoide viene dopo che è mineralizzato poi c'è la fase di rimaneggiamento osseo e quindi forma il tessuto osseo secondario questo è comune a tutti solo che questo modulo osteogenico è una sequenza di eventi comuni ma l'ossificazione può essere fatta su substrati differenti infatti l'ossificazione diretta è una ossificazione che non coinvolge la cartilagine quindi non c'è una cartilagine che mi dà la guida su come ossificare la faccio esattamente come è esplicabile nel nome diretta quindi nell'ossificazione diretta gli osteoblasti formano rapidamente il tessuto osteoide che è costituito da microfibrille collagene successivamente vengono mineralizzate e formano il tessuto osso primario che poi va a formare la parte anatomica e questa ossificazione è ad esempio presente a livello delle osse craniche poi ho l'ossificazione mantellare la mantellare è una ossificazione molto particolare perché io ho il pericondrio per esempio ho la cartilagine ho la parte cartilagine e poi ho il pericondrio che riveste la cartilagine ecco l'ossificazione mantellare si avvale del pericondrio come guida quindi vado a ossificare sopra e intorno al pericondrio e questo si forma per esempio a livello del segmento scheletrico cartilagineo della cartilagine di Mechel che è la cartilagine mandibolare quindi la mandibola si forma perché c'è una parte cartilaginea all'inizio dell'embrione che viene presa come guida a livello pericondriale e da lì poi vado a liberare tutti i fattori prostiogenici e si forma tutto l'osso e quindi rimane compreso all'interno una parte cartilaginea con il suo pericondrio e poi ho l'ossificazione indiretta detta condrale questa ossificazione indiretta o condrale segue due step segue il primo step che è l'ossificazione pericondrale quindi avviene una prima ossificazione tra la cartilagine e il pericondrio quindi cosa succede? succede che il pericondrio si vascularizza ulteriormente compaiono le cellule osteoprogenitrici e sotto il pericondrio si trasforma la parte cartilaginea in perigostio osteogenetico quindi si forma proprio un manicotto di osso fibroso e lamellare dove sopra c'è letteralmente il pericondrio la seconda fase invece è l'ossificazione endocondrale quindi ok ho creato un manicotto osseo che sta dove sopra c'è il pericondrio e sotto c'è la cartilagine e tramite l'ossificazione endocondrale io vado a ossificare diciamo ossificare non è così ma vado a coinvolgere la cartilagine che sta intorno secondo una appunto ossificazione quindi avrò un centro diafisario e due centri epifisari prossimale distale il centro diafisario appare proprio al centro della diafisi delle osse lunghe e si estende in direzione dell'epifisi e i centri epifisari compaiono ovviamente a livello distale cioè prossimale distale e cosa succede? praticamente questi centri che sono osteogenetici si estendono in modo eccentrico per andare a coinvolgere proprio la parte maggiore dell'epifisi quindi ho delle fasi dell'ossificazione endocondrale la prima è la proliferazione dei condroblasti quindi io ho la cartilagine i condroblasti si attivano proliferano formano i gruppi isogeni di cui abbiamo già parlato e aumentano quindi aumentano le dimensioni quindi vanno in ipertrofia raddoppiano il proprio volume e producono delle particelle di glicogeno gocce di trigliceridi e si verifica la produzione di globuli calcificanti esatto proprio la cartilagine si va a comportare come un osteoblasto produce i globuli calcificanti quindi si forma una cartilagine calcificata dove la sostanza intercellulare si mineralizza e i condroblasti a questo punto subiscono apoptosi quindi una volta che subisce apoptosi si formano dei vuoti e il tessuto connettivo va a invadere questi vuoti lasciati che sono stati usati dalla apoptosi dei condroblasti e si avvia a questo punto il modello osteogenetico quindi questi osteoblasti formano il tessuto osteoide e poi lo mineralizzano e così è diciamo la fase dell'ossificazione endocondrale